da parte dell'Italia Muglia, grazie Allora, come promesso, quando abbiamo parlato dell'isteria messa nel nuovo direttivo di tutti i nostri progetti vi avevamo anticipato che avremmo cercato più location quindi faccio andare a voler più location così da dare la possibilità anche a musicisti che arrivano da zone diverse di poter partecipare e questa partnership con Oparta di Subito ci piace molto è un palco molto accogliente, l'aliente ci piace molto e spero che anche voi mi troviate a vostro agio e non sono in cerca di sì e quindi un grazie ad Alfredo di Oparta con un bello palco, grazie Allora, questa sera abbiamo con noi Maurizio Iermognola che mi singa a Puglia la lingua turistica, non perché lo dico e quindi la prima parte della serata sarà in mano a lui e poi partiremo con la Gemma Abbiamo un paio di comunicazioni di servizio di cui una molto importante Allora, questa sera purtroppo causa violenta influenza Marco Rizzi, Emond non è potuto partecipare e gli facciamo per segure di protagorigione ma la notizia, la news che volevamo darvi è l'ingresso nella nostra resident band di Giorgio Molti di voi lo conoscono qualcuno lo ama, qualcuno lo odia ma è sicuramente un grandissimo chitario Un applauso per voi Eccolo, brava Bene, vi ricordo qui sotto il palco lo spazio per registrarvi per la Gemma e se volete atteserarvi siamo pronti anche per il tesseramento Non ho altro da aggiungere lascio spazio a Maurizio che ha tanto da raccontarci sulla sua musica e buona serata, a presto